Allora, buongiorno, io mi chiamo Antonella Vecchietti e vi presento questi orecchini a cui ho dato il nome Spring Rose, che sarebbe rosa di primavera. In pratica io avevo fatto questi orecchini con le Moby Duo Aztec Gold acquistate dal sito Perline Bijou e le ho pubblicate sul gruppo delle amiche di Perline Bijou e sono piaciuti. Quindi per questo motivo anche qualcuno mi ha chiesto gentilmente il tutorial e io quindi mi sono data un po' da fare e ho fatto il tutorial. Ovviamente mi scuso in anticipo perché è la prima volta che lo faccio. Vi voglio fare giusto due precisazioni, un paio di precisazioni di cose che non ho detto nel corso del tutorial e cioè che il filo che utilizzo questa volta è il Fireline 017, però vi consiglio di usare lo 015 perché è più sottile e nell'ultimo giro effettivamente si passa più di una volta nelle 15.0, quindi meglio un filo più sottile. E poi un'altra cosa, vi consiglio di tagliarne all'incirca due metri, vi ne avanzerà un po', però almeno siete tranquilli di terminare la lavorazione senza dover aggiungere del filo che appunto, ripeto, utilizzando le 15.0 diventerebbe scomodo. Ecco, questi sono gli orecchini, ve li faccio vedere più da vicino. In realtà, ecco, questo è il retro, ve lo faccio vedere. Come dico anche più in là nel video, sono morbidosi, non sono rigidissimi, però all'orecchio stanno bene, non si curvano comunque. Spero che vi piacciano e che vogliate provarli. E niente, quindi vi saluto, grazie mille! Ecco, vediamo quali sono i materiali necessari per realizzare i nostri spring rose. Allora, innanzitutto, due rivoli da 12 mm. Questi sono della Swarovski, poi le perline Moby Duo, queste sono Chalk White Champagne Luster, poi le Rokai 11.0 e le Rokai 15.0, queste sono della Miyuki. Io penso che con le Miyuki venga bene, poi non assicuro con le Toh. Gli Anelini è un perno, che in questo caso è a rosellina, proprio per richiamare la forma degli orecchini. Inizieremo ad effettuare l'incastonatura dei rivoli, che è un pochino diversa dal solito. Per fare questo dovremo mettere sull'ago 28 Rokai 11.0 e poi continueremo a Peiote. In realtà non è nulla di straordinario. È l'incastonatura classica, che io di solito effetto grazie al video delle gioie di Carmen. E praticamente poi dopo, solo sul davanti, non faremo il doppio giro con le 15.0, per lasciare più visibili i rivoli. Quindi cominciamo infilando sull'ago 28 Rokai 11.0. Dopo aver infilato le 28 Rokai 11.0, iniziamo il primo giro di Peiote. Come sappiamo, inserendo una perlina sull'ago e infilandoci non in quella successiva, ma in quella dopo. Quindi soltanto una perlina del giro sottostante. Facciamo questo, ovviamente, per tutto il giro. Quando abbiamo effettuato il primo giro, dobbiamo fare attenzione giusto al passaggio di chiusura del giro, infilandoci nella Rokai, che era la prima che avevamo infilato. Adesso dobbiamo effettuare il secondo giro di Peiote. Quindi metteremo sull'ago sempre una Rokai 11.0 e ci infiliremo tra una Rokai e l'altra del giro appena fatto. Facciamo questo per tutto il giro. Ora, una precisazione da fare. Innanzitutto, vabbè, dobbiamo chiudere correttamente, è ovvio, anche questo secondo giro di Peiote. Però voglio precisarvi una cosa. Dovremmo inserire i rivoli. Il rivoli, questa volta è Swarovski, è uno Swarovski Light Silk. E in questo caso ho notato che sono sufficienti due giri di Peiote con le 11.0. E adesso procederemo a fare la chiusura con le 15.0 sul retro. Però io nel primo paio di questi orecchini che ho realizzato, ho usato un rivoli non Swarovski. E quindi in quel caso sono necessari tre passaggi di Peiote con le 11.0. In ogni caso, questa volta ne basteranno due. Questo volevo precisare. Adesso procediamo. E dobbiamo, a questo punto, infilare appunto i rivoli con la parte brillante verso il basso. E dobbiamo iniziare a stringere il nostro giro. Tenendolo fermo, metteremo sul retro, appunto, faremo il giro di Peiote con le 15.0. Quindi inserendo una 15.0 tra una 11.0 e l'altra. E dobbiamo farlo per tutto il giro e poi tirare il filo. Ecco, questo è il lavoro con il primo giro di 15.0. Adesso procedo a fare il secondo. Ecco, come vedete, ora ho terminato il secondo giro con le 15.0 e se volete potete ripassare anche nel giro, appunto, nell'ultimo giro. Però adesso ci portiamo intanto ad uscire, se volete potete farlo, però non è esattamente necessario, ci portiamo ad uscire sul davanti, che appunto, vi voglio mostrare, o meglio, ci portiamo ad uscire dalla perlina da cui inizieremo la lavorazione del giro esterno, che è esattamente questa, cioè questa perché praticamente si trova dopo, adesso ve la faccio vedere bene, ecco, esattamente qua, dopo questa che sporge di più su rivoli, questa qui, da questa perlina ci porteremo a uscire. Nel frattempo vi volevo far notare, appunto, che comunque il rivoli è ben incassonato e allo stesso tempo rimane più scoperto, rimane più visibile, quindi così potrà, diciamo, vedersi meglio la sua brillantezza. Da qui inizieremo il giro esterno, quindi tutta la decorazione, se vogliamo, a forma di rosa del nostro rivoli per realizzare il nostro orecchino. Ecco qua. Ecco, come vedete, questa è la Moby Duo e noi andremo a infilarci nel buchino, quello di sinistra, questo qui, tenendo presente che la Moby Duo, appunto, la dobbiamo tenere con la parte piatta, verso il basso, con la parte più sporgente, diciamo, appuntita, verso l'alto. Comunque, prima di infilarci nel buchino di sinistra della Moby Duo, prendiamo sull'ago una 11.0, ci andiamo a inserire in quel buchino che, appunto, vi dicevo, quello di sinistra, come vedete, in questo modo, tiriamo il filo e avviciniamo la Moby Duo al lavoro. Ora dobbiamo inserire sull'ago 5.15.0, 5.15.0, che andiamo a mettere, appunto, qui sull'ago. Ecco, e ci infiliamo nell'altro foro della Moby Duo, quello accanto, ovviamente. Tiriamo il filo, tiriamo il filo, vedete come dobbiamo trovarci, per esattezza, in questo modo. Ok, perfetto. Adesso che abbiamo infilato così, mettiamo sull'ago un'altra 11.0, ci inseriamo, non in questa rocaille del giro, ma in quella successiva, quindi ne saltiamo una di questo giro centrale e ci inseriamo in quella successiva. Tiriamo bene il filo ed ecco quello che succederà, come ci ritroveremo. Questo passaggio lo dobbiamo fare per tutto il giro. Alla fine del giro ci ritroveremo così, quindi avremo 7 Moby Duo inserite in tutto intorno al nostro Rivoli e ci troviamo in questa posizione. Per passare al giro successivo dobbiamo quindi entrare non solo nella rocaille, quella dell'incassonatura, ma anche in questa, che è la prima che abbiamo inserito in questo giro, quella che si trova sotto la Moby Duo e poi risaliamo quindi sulla Moby Duo, insomma ci ritroviamo a livello successivo. Qui dobbiamo ripassare in tutte e 5 le rocaille 15.0. Per come le troviamo, insomma, ci dobbiamo ripassare all'interno, scusate. Ora che facciamo? Prendiamo nuovamente la Moby Duo, ci inseriamo sempre nel buchino di sinistra e l'avviciniamo al lavoro. Inseriamo 5, adesso 5, 15.0 e con l'ago ci infiliamo nel foro, vi faccio vedere meglio, nell'altro foro, insomma, della Moby Duo. Tiriamo il filo, la facciamo scorrere la Moby Duo vicino al lavoro, vedete? In questo modo. Ecco. E poi non dobbiamo fare altro che ripassare nelle 5, 15.0 che ci troviamo accanto. Tiriamo un po' in questo caso il filo ed ecco come si viene a sistemare. Ecco qui. E questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Allora, stiamo per terminare questo giro e lo facciamo insieme. Allora, quindi ripasseremo nelle 5 rocaille 15.0 che abbiamo, che ci troviamo qui. Ripassiamo. Un attimo. Ecco qua. Allora, ripassiamo in queste 5 rocaille. Poi, che dobbiamo fare? Dobbiamo passare a livello superiore, insomma, della nostra lavorazione. Quindi ci andremo a infilare anche nel foro della Moby Duo. Partendo dal basso, risaliamo e passiamo anche in queste 5 rocaille 15.0. Passiamo in queste 5 rocaille 15.0. E quindi ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo, ecco la faccenda un pochino si complica, ma adesso la facciamo insieme e vediamo bene tutti i passaggi. Allora, dobbiamo prendere la Moby Duo e dobbiamo inserirci nel forellino solito, quello di sinistra. Poi dobbiamo prendere, questa volta, 4 15.0. Solo 4 15.0. Ecco. Prendiamo 4 15.0. Ci inseriamo nel foro accanto, scusate, ci inseriamo nel foro accanto della Moby Duo. Poi, però, prendiamo un'altra Moby Duo e ci inseriamo sempre nel foro di sinistra, ma questa volta da sopra, così. Ci inseriamo così, la avviciniamo sempre al lavoro e avremo questa situazione che adesso vi faccio vedere. Poi, andiamo nel giro sottostante, ci rivolgiamo a queste perline che si trovano, a queste rocai che si trovano nel giro sottostante, però ci infiliamo solo in quella centrale. Ecco. Tiriamo il filo. Le Moby Duo si verranno a disporre in questo modo. Adesso che abbiamo tirato il filo, ci inseriamo nello stesso foro da cui siamo uscite, ma adesso entriamo dal basso verso l'alto. E quindi ci portiamo ad uscire su. Vedete? Ecco. Quindi tiro il filo. Dobbiamo tirare anche meglio questo, per avvicinare meglio la Moby Duo al lavoro. Ecco. Ci dovremo trovare in questa situazione e praticamente in questo caso poi infiliamo altre 4. 15, 0. Saltata. E ci infiliamo nel foro, quello libero della seconda Moby Duo, questo qui. Ecco. Tiriamo il filo e ci inseriamo, passiamo nelle 5 rocaie che troviamo qui vicino, che sono quelle del giro precedente. Questo è il passaggio che noi dobbiamo fare e che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Io ora però vorrei farvelo vedere, già sistemato, senza tirare il filo, però tutti i passaggi in cui il filo è visibile. Ve lo faccio vedere e poi comunque questo passaggio lo dobbiamo rifare per tutto il giro. Datemi un attimo che le sistemo e vi faccio vedere. Ecco, per essere più chiara, ho ricreato appunto la sequenza, così, fatta in questa maniera, però ovviamente voi dovrete tirare ad ogni passaggio. In pratica saliamo sempre nel foro sinistro della Moby Duo, inseriamo 4 rocaie 15-0, scendiamo aggiungendo l'altra Moby Duo, quindi attraverso entrambe, però in questa centreremo dall'alto, come vedete. Poi ci inseriamo nella rocaie centrale del giro precedente, risaliamo e ripassiamo in entrambe le Moby Duo dal basso verso l'alto, usciamo qui, infiliamo le altre 4 rocaie, ci inseriamo nel foro di destra della Moby Duo, quello libero, e poi ripassiamo nelle 5 rocaie del giro precedente. Ecco, io spero che questa immagine vi sia di aiuto, vi sia più di aiuto. Ecco, adesso questo passaggio appunto lo rifacciamo per tutto il giro e poi ci rivediamo. Allora, siamo per terminare il giro, come vedete, abbiamo infilato le 4 rocaie, ci infiliamo nelle 5 rocaie 15-0 che troviamo sotto, come sempre. Però adesso risaliamo anche nel foro, sempre della Moby Duo, dal basso verso l'alto, per trovarci a livello superiore, insomma, della nostra lavorazione. Adesso non dobbiamo fare altro che ripassare in tutte queste rocaie 15-0, che poi sono 8, perché nel giro precedente ne abbiamo messe 4 e poi di nuovo 4, vi ricordate, quindi sono 8. Ripassiamo in queste rocaie. Ecco, adesso dobbiamo infilare 3 rocaie sul lago e inserirci nella perline centrale del gruppetto di 5 perline che sta nel giro sottostante. Quindi tiriamo il filo e infiliamo altre 3 15-0 sul lago e ci infiliamo nelle perline che abbiamo infilato nel giro precedente, che sono 8 rocaie 15-0 che si trovano sulle Moby Duo. Facciamo questo passaggio, vedete come ci veniamo a trovare, facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco, stiamo per terminare il giro, quindi infiliamo le ultime 3 rocaie 15-0 e adesso dobbiamo ripassare in tutte queste perline, fino ad arrivare quasi in questo punto, quindi prima della perlina che era quella centrale del gruppetto di 5. Ora ripassiamo in queste rocaie, dobbiamo semplicemente fare un'ultima cosa, e cioè arrivare in quel punto e inserire una sola rocaie 15-0. Datemi un attimo, e ci siamo quasi. Ora perché facciamo questo? Perché adesso abbiamo con l'ultimo giro, abbiamo dato un po' di rigidità alla lavorazione, che comunque, ecco la cosa che volevo precisare, è un pochino morbida, ma un pochino, però adesso con il giro che abbiamo già fatto, già si è compattata. Con quest'ultimo passaggio andrà a compattarsi ancora di più. In ogni caso, non è di quelle rigidissime, però la rosa comunque sta su abbastanza bene, e se vi piace comunque l'effetto finale, vi consiglio in ogni caso di provare a farla. Ecco, in questo punto, qui, esattamente qui, vediamo se ve lo faccio vedere più da vicino, dobbiamo inserire la rocaie 15-0, solo una, e poi tiriamo il filo, ripassiamo di nuovo in tutte le perline, e quando arriviamo appunto di nuovo in questo punto, dobbiamo inserire di nuovo la rocaie. Dobbiamo rifarlo quindi per tutto il giro. Ecco, questo è l'orecchino terminato. Praticamente ho fatto il capietto uscendo dalla perlina che avevamo appunto inserito nell'ultimo giro, ho fatto un capietto con 6 rocaie 15-0, e niente, vi volevo far vedere il retro, questo è il retro, ripeto, non sono rigidissimi, però stanno su abbastanza bene, non saranno perfetti, perché comunque è il mio primo tutorial, e anche sicuramente nel tutorial avrò fatto qualche piccolo pasticcio, però tranquille, perché le indicazioni sono quelle, l'orecchino riesce. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare Silvia Gadda, che praticamente fa parte del gruppo delle amiche di Perline Bijou, che mi ha incoraggiato, è stata tanto carina, mi ha incoraggiato a fare questo tutorial. Mi rendo anche conto che quelli, gli orecchini con le Moby Duo Aztec Gold sono anche molto più carini di questi, però è stata l'occasione per provare anche questo schema con un colore diverso. Vi ringrazio ancora e niente, arrivederci alla prossima!